Ciao a tutti, sono Valerio Novara di Fage Network. Oggi voglio parlarvi di Promising Young Woman, una donna promettente in italiano, un film che mi ha lasciato veramente scioccato, che mi è piaciuto tantissimo e che lancia dei messaggi fortissimi che non erano mai stati affrontati, o perlomeno non erano mai stati affrontati in questo modo, da un film di questo tipo e quindi dal cinema contemporaneo. Ma andiamo con ordine. Promising Young Woman, una donna promettente, parla di questa ragazza Cassandra che un tempo era iscritta all'università per studiare medicina e che dovette smettere, perché le capitò un incidente, una bruttissima situazione, nella quale venne stuprata una sua compagna e da quel momento lei praticamente vive tutta la sua quotidianità, cercando di far capire e beccare gli uomini che nella totale, anche spesso viene mostrata questa cosa dell'uomo che ci prova con la donna in un modo che può sembrare normale. Io credo che tante donne guardando questo film si interroghino, si possano interrogare per chiedersi, ma quindi in quella situazione poteva andare peggio? Cioè poteva verificarsi qualcosa di brutto? Perché è ovvio che ci sono degli uomini che ci provano con le ragazze in un modo totalmente normale, senza andare oltre, senza dover per forza farle ubriacare per portarseli a letto. Ebbene il film mostra nella massima crudità, come si suol dire, quello che veramente può succedere se una donna perde la razionalità, il lume della ragione e magari si sta divertendo, sta bevendo dentro un bar, un pub e qualcuno ci prova con lei. Beh, in questo film io ho apprezzato tantissimo il voler far vedere come sia semplice a volte cadere nei tranelli di alcuni mezzi uomini, come li chiamerei io, che vogliono semplicemente portarsi a letto le donne e magari far passare il messaggio che quell'atto era un atto consensiente. In realtà non c'era consensualità dalla parte della donna, perché noi dobbiamo capire che spesso non è perché una donna vuole bere qualcosa con noi, oppure accetta un invito da parte nostra, ed è di conseguenza quindi scontato che venga a letto con noi. Noi uomini spesso dobbiamo essere consapevoli che c'è un modo di fare che non deve mai oltrepassare dei limiti. E questo film lo mostra, questo film mi ha colpito non solo perché inizialmente uno lo vede come un gioco, quello di lei, di farsi vedere un po' sopra le righe, no? La classica ragazza che accetta l'offerta di bere qualcosa insieme con un uomo, e poi salire a casa di lui e continuare magari a bere un drink. E poi però stupirsi, una cosa che mi ha lasciato veramente scioccato di questo film, di uomini che mai avrei avuto, non avrei mai creduto che alcune specie di uomini che vedi tutti carucci, tutti pettinati, tutti tranquilli, che sono anche dolci nei loro modi verso la donna, possano poi arrivare a pensare e a provarci in un modo che vada oltre, che sorpassi il limite. E quindi vediamo anche delle scene in cui lei finge di essere ubriaca per vedere fino a che punto quel tipo d'uomo si sarebbe spinto. E quindi beccarlo, ricattarlo, dirgli guarda che io non sono ubriaca, io me ne sto accorgendo che tu m'hai fatto bere per poi arrivare al fine, che è quello dell'atto sessuale. Quindi ho trovato molto forte il fatto che facciano proprio vedere la classica situazione in cui un uomo offre da bere ad una donna semplicemente per arrivare a quello. E mi ha colpito la grande novità di questo film, è che invece una donna lo faccia apposta. E lo faccia apposta anche per arrivare a un certo tipo di punto, un certo tipo di finale del film in cui c'è la vendetta. È un film sì sulla vendetta e contro la violenza sulle donne, ma è un film che per esempio ha prodotto Margot Robbie e ricordiamo che Margot Robby è interpretato in Suicide Squad Harley Quinn. Ci sono delle somiglianze, perlomeno fisiche, tra l'Harley Quinn di Margot Robbie e il personaggio interpretato in Una donna promettente da Carey Mulligan, che sinceramente ho apprezzato tantissimo perché l'avevo sempre vista in ruoli che la brava ragazza, la seria, la studiosa e sinceramente ho apprezzato tantissimo la parte che ha interpretato perché è stata bravissima anche a far sembrare in alcune scene a spacciarsi per una donna che è ubriachissima, che avrebbe fatto qualunque cosa con l'uomo che aveva a fianco invece poi l'ha sgamati e quindi l'ha beccati, gli ha fatto mettere una paura tremenda. Per arrivare, dicevo, ad un finale di vendetta, un finale di vendetta in cui lei per anni cerca la giustizia, anche la verità, per vendicare lo stupro avvenuto anni prima di una sua compagna e il fatto è che riesce ad arrivare a questo orco, a quest'uomo e il finale è pazzesco perché è il film più tarantiniano, se vogliamo, di quelli candidati quest'anno agli Oscar. L'ho trovato molto tarantiniano questo finale, un finale pieno di colpi di scena e tra l'altro mi ha ricordato un po' anche il Parasite di Bongiuno dello scorso anno. Lei arriva, senza spoilerare il finale, arriva però a far cadere nella sua trappola quest'uomo che per troppi anni l'aveva fatta franca e per troppi anni non si era reso conto del male che aveva comportato alla sua compagna. E quindi lei che fa ritrovare una festa di addio al nubilato, tutte queste persone in un casolare ci va come travestita infermiera per farli divertire e poi lì riesce, vuole anche convincere psicologicamente quest'uomo di quello che ha fatto e fargli capire della gravità delle azioni. Quindi penso che sia molto un film sul prendersi la responsabilità delle proprie azioni, una cosa che spesso non viene nemmeno presa in considerazione da un certo tipo d'uomo che pensa che sia avvenuto tutto per gioco, che le cose avvengano per gioco, che una donna sia solo un oggetto con il quale sfogarsi e divertirsi. Ebbene, alla fine del film ci sarà anche, tra virgolette, il grande colpo di scena finale e il messaggio che vuole lanciare questa donna, una donna promettente appunto, è anche ironico il titolo del film, per far vedere anche una parte della nostra quotidianità di cui non ci rendiamo conto. Perché io in primo, da uomo, mi chiedo come si possa arrivare a pensare anche solamente alcune cose e pensare di approfittarne di una donna che magari si è divertita, ha passato una bella serata, ha bevuto anche più del dovuto, perché no, o sia magari dimostrandoci che la nostra compagnia gli fa piacere, gli aggrada. Però non è scontato il fatto che debba venire per forza a letto con noi e credo che sia un film che fa molto pensare, che lancia dei messaggi fortissimi e anche crudo se vogliamo, tra virgolette, in alcuni momenti, perché io mi rendo conto che una donna che abbia passato e abbia ricevuto delle avanze di quel tipo possa anche essere colpita in modo particolarmente profondo dai messaggi e da alcune scene che ci sono nel film. Ho trovato il finale spettacolare, un tripudio di emozioni, poi lo vedrete da voi, ma c'è, diciamo, poi alla fine l'intento della protagonista riesce, perché nonostante debba anche mettersi in gioco in prima persona. Quindi sacrificare il suo essere in prima persona riuscirà a far beccare queste persone che per troppo tempo, ma anche gli amici, io me la prendo anche con gli amici che dovrebbero essere i primi a denunciare, a far capire alle persone quando sbagliano, invece magari sono complici e la prendono anche con una risata, il che è davvero una pessima cosa. Per oggi è tutto, io vi saluto, se avete qualsiasi suggerimento, se avete degli spunti da suggerirmi, commentate qui sotto, fatemi sapere cosa ne pensate del film e seguiteci sugli altri nostri canali, ci trovate tra l'altro ogni sera in live su Twitch e domenica 25 aprile seguiremo la maratona nella notte degli Oscar dalle 22 e 30 sul nostro canale Twitch Fage Network. A presto!